Musica Bentrovati a Voci di Valle in questa puntata spazio alla musica e alla cultura con il primo servizio saremo a Canale d'Agordo per ascoltare i Pink Sides andremo poi a Gosaldo per conoscere il messaggio lanciato dall'autrice Sara Segantin nel suo nuovo libro A Canale d'Agordo la grande musica dei Pink Floyd domenica 29 agosto in Valle di Gares è andato in scena lo spettacolo dei Pink Sides complesso musicale che propone gli storici brani di Waters, Gilmore, Mason, Barrett e Wright in un teatro naturale spettacolare e suggestivo circondato dalle palle di San Martino e dalle cascate delle Comelle ai piedi delle Dolomiti i Pink Sides hanno evocato la magia degli anni Sessanta You've got to be crazy You've got to have a really You've got to sleep on your toes And when you're on the street You've got to be able To be on the easy move When you have to And move me silently down And go in and out of its sight You've got to be unrest And start where The moment is right Without thinking And after a while You've got to be woke up Fチ are Locked by tide And run ahead shake You've got to look in the eyes Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.